Nuovo anno, nuovi incentivi per acquistare una nuova auto. È di pochi giorni fa la notizia che anticipa il ritorno dei bonus per il 2024 per la rottamazione di auto inquinanti e l'acquisto di auto meno inquinanti. Vedremo se questa volta saranno più efficaci, dato che le cifre stanziate per l'anno scorso sono avanzate, un po' come i cenoni di vigilia e capodanno. Infatti degli oltre 900 miliardi che dovrebbero essere stanziati per l'anno corrente, una buona parte sono avanzi dell'anno scorso. Vi ricordate gli incentivi per l'acquisto di autotermiche, quindi che rientravano nella fascia 61-135 grammi di CO2 per chilometro si erano esauriti in pochi giorni, una sorta di click day, mentre quelli per l'acquisto di auto elettriche sono rimasti in buona parte intonsi per tutta una serie di motivi che già sappiamo. E dunque tuffiamoci a capofitto in questa nuova tornata di incentivi, cerchiamo di capire quanti ne saranno, per chi sono e quanto si potrà risparmiare. Ma prima di farlo lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale di DriveK per non perdervi alcun nuovo contenuto. Dunque partiamo da cosa ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso a riguardo. Ha detto che un nuovo piano di incentivi avrà tre chiari obiettivi. Il primo è svecchiare il parco auto circolante italiano il più vecchio d'Europa. Come? Rottamando le vetture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, ma anche più recenti per acquistare un'auto nuova e dunque molto meno inquinante. Allo scarico. Infatti come vedremo nello specifico più avanti, più inquinante è l'auto che rottamerai, maggiore sarà lo sconto. Numero 2. Supportare le famiglie meno abbienti, ovvero quelle che probabilmente hanno le suddette letture Euro 0, 1, 2, 3, perché non possono permettersi l'acquisto di auto nuove. Nello specifico verrà utilizzato come metodo di misura l'ISEE, ovvero l'indicazione della situazione economica equivalente che misura la condizione economica di ciascun nucleo familiare. Come verrà autorizzato quindi questo ISEE? Dando uno sconto ulteriore qualora il nucleo familiare che richieda l'incentivo abbia un ISEE inferiore a 30.000 Euro. Numero 3. Supportare la filiera produttiva italiana. In quanto nella tornata 2022 degli incentivi solo 1 su 5, circa il 20%, è andato a favore di modelli prodotti in Italia. Chiaramente però se non ci sono stabilimenti produttivi in Italia è difficile invertire questa tendenza. Per cui il ministro ha anche in mente di spostare un maggior numero di risorse verso gli impianti produttivi italiani, qualora la strategia nuova di incentivi non porti ai risultati sperati. Ma quindi in cosa consisteranno questi incentivi? Per prima cosa è utile sapere che dei milioni che verranno stanziati, buona parte, saranno quelli che nella tornata precedente sono avanzati. Il totale però supererà i 900 milioni di Euro e verranno probabilmente suddivisi in questa maniera, diciamo probabilmente perché non c'è ancora stata una formalità vera e propria, che è attesa entro metà gennaio. 205 milioni saranno destinati all'acquisto di vetture nuove che emettano tra gli 0 e i 21 grammi di CO2 per chilometro, ovvero principalmente le auto 100% elettriche. L'incentivo minimo sarà di 6.000 euro senza rotalazione alcuna che può salire a 7.500 qualora l'ISEE richiedente sia minore di 30.000 euro. E può crescere fino a 13.750 euro qualora si rottami un'auto molto inquinante, ovvero da Euro 0 a Euro 2. 245 milioni invece, l'importo maggiore, verrà stanziato a favore dell'acquisto di auto che rientrano nella fascia 21-60 grammi di CO2 per chilometro, ovvero principalmente le auto ibride plug-in. Visto che queste auto allo scarico emettono leggermente più sostanze, anche l'incentivo sarà leggermente minore, un minimo di 4.000 euro e un massimo di 10.000 euro. Infine ci saranno anche sconti per l'acquisto di auto benzina, diesel, mild hybrid, full hybrid, insomma tutte quelle vetture che rientrano nella fascia 61-135 grammi di CO2 per chilometro. Ma l'importo stanziato per l'acquisto di queste vetture è il minore di tutti, 120 milioni di euro. E per lo stesso motivo di cui sopra anche l'incentivo sarà minore, un minimo di 2.000 euro e un massimo di 3.000 euro di sconto, solamente con rotamazione di una vettura Euro 5 o inferiore. Ma se volete sbirciare le tabelle complete con tutti i valori vi basta andare sul nostro sito drivek.it, le trovate là. Ma questo sbilanciamento dell'allocamento delle risorse fa sorgere qualche domanda. Secondo i dati dell'Unre nel 2023 il 64% delle immatricolazioni è stata di vetture in fascia 61-135. Per cui siamo sicuri che gli incentivi che riguardano la fascia a motore prevalentemente termico non siano troppo pochi e rischino di finire in pochissimo tempo. Inoltre siamo sicuri che la strategia giusta sia quella di spingere maggiormente ad acquistare un veicolo alla spina e non quella di gradualmente svecchiare il parco circolante italiano passando per esempio da 1€ 0 a 1€ 6D che comunque rappresenterebbe un ottimo passo in termini di emissioni allo scarico. Voglio sapere la vostra su questa quindi lasciatemi un bel commento. In ogni caso tornando a noi è importante sottolineare che verrà anche stabilito un tetto massimo al prezzo dell'auto incentivabile. Il che significa che non tutte le vetture potranno essere incentivate. Il prezzo delle elettriche e delle mild hybrid e simili non potrà superare i 42.700 euro IVA inclusa mentre il prezzo delle ibride plug-in non dovrà superare i 54.900 euro sempre IVA inclusa e conoscendo l'andamento dei listini del nuovo soprattutto per quanto riguarda le auto elettriche 42.700 euro IVA compresa come tetto massimo per il loro prezzo non sembra poi così alto vero? Quindi fatemi anche sapere nei commenti se volete un video dedicato a quali vetture accaparrarsi una volta ufficiali le cifre degli incentivi. Per il resto la tornata dei nuovi incentivi non dovrebbe più riguardare i concessionari mentre vengono introdotti agli incentivi le società di noleggio. Una formula diversa dalla proprietà sempre più apprezzata. Parlando sempre di noleggio si vocifera che nel 2024 verrà sperimentato il social leasing. Una formula riservata alle famiglie meno abbienti per accedere a vetture meno inquinanti a noleggio e con un canone mensile calmierato dallo Stato. Infine si prospettano buone notizie per taxi ed NCC che popolano ormai le nostre metropoli perché per queste categorie il bonus potrebbe essere raddoppiato. Eccoci dunque al termine di questo primo approccio alla nuova tornata degli eco bonus del 2024 per l'acquisto di auto nuove quindi fammi sapere la tua, iscriviti al canale di 3K per non perdervi tutti i prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima! Ciao! 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 Ciao!